Siamo venuti nel territorio di Tornimparte, in particolare a cavallo tra Rocca Santo Stefano e Madonna della Strada. In particolare questa è la zona delle Felciare e l'area che inquadra il nostro operatore Donatello Ricci al di là delle sterpaie è l'area artigianale individuata dal comune Tornimparte per realizzarvi un centro di raccolta intercomunale, un sistema di compostaggio di comunità. qualora è bene precisarlo il comune dovesse vincere dei bandi ai quali ha partecipato per intercettare delle risorse del PNRR. Un progetto, dei progetti molto contestati, ci sono a ridosso anche delle abitazioni private a 200 metri, dicono così i comitati e c'è un gran parlare di queste opere perché residenti che si sono costituiti appunto come dicevamo un comitato non ne vogliono sapere di quest'opera e sono anche contro la localizzazione qui in una zona che viene utilizzata anche da camminatori quotidianamente. Il comitato che si è costituito Salviamo le Felciare non intende indietreggiare ed è pronto anche a ricorrere alle vie legali per bloccare i progetti secondo loro troppo impattanti in una zona bellissima dal punto di vista naturalistico e con abitazioni a 200 metri. Sono contrarie alla localizzazione ma anche ai progetti in sé che per loro non servono. Lo hanno ribadito a chiare note anche in un incontro avuto sabato scorso a Palombaia con sindaco e amministrazione che hanno voluto illustrare i progetti dai toni molto accesi. Il comune del canto proprio ritiene invece i progetti validi per migliorare i servizi e ridurre i costi. Il sindaco Gian Mario Fiori ha spiegato che se ci saranno proposte valide dal comitato saranno ricepite ma sui progetti non indietreggiano. Dello stesso avviso il presidente del Consiglio Comunale Giacomo Carnicelli. Riteniamo validi essenzialmente per due motivi perché vogliamo efficientare il ciclo di raccolta dei rifiuti sia sotto l'aspetto del contrasto dell'abbandono e sia per efficientare e ridurre i costi del ciclo dei rifiuti. Carnicelli ha mostrato anche delle mappe. Per lui il luogo dell'intervento non è vicino al bosco. Il comitato ha già detto di non avere nessun interesse politico e di non farsi tirare dalla giacchetta da nessuno mentre l'amministrazione qualche stoccata l'ha data a qualche candidato alle prossime elezioni di Scoppito. Secondo Fiore Carnicelli qualcuno soffia sulle paure dei cittadini. Secondo noi c'è qualcuno che soffia sulla paura dei cittadini a scopi elettoralistici. Nel nostro comune vicino di Scoppito si va ad elezioni e quindi il tema dei rifiuti è un tema che fa presa perché c'è giustamente paura. Vanno innanzitutto a chiamare le cose per il loro nome. Noi non stiamo facendo nessuna discarica, nessun centro megagalattico. E poi soprattutto perché la vocazione dell'area è compito del comune di Torni in parte stabilirla in accordo con il comune di Scoppito chiaramente.